Allora Davide, siamo qui per parlare insieme di Denti da Squalo, che è il tuo appunto esordio dietro la macchina da presa con un lungometraggio. Mi è venuta subito in mente una piccola connessione con la letteratura, perché Denti da Squalo è stato definito come una moderna favola di mare. In effetti lo è, ma non solo per il discorso legato alla location, che poi come hai detto in conferenza stampa si tratta di Tor San Lorenzo, oppure il discorso appunto di personaggi eccentrici che si chiamano il corsaro o altre affinità del genere. E' proprio perché le avventure del protagonista Walter, ma anche tutti gli altri archetipi che vengono incarnati nei vari personaggi, ricordano da vicino le storie di mare, le storie di pirati e soprattutto l'isola del tesoro di Stevenson. Quanto è forte quindi l'eredità di questo classico della letteratura su Denti da Squalo e se c'è questa eredità? Ma in realtà questo argomento, questa isola che non c'è, è emersa ieri poi parlando con Edoardo Pesce durante le interviste, non ci avevo mai fatto un pensiero approfondito, dico la verità. Quindi credo che sia un po' casuale l'isola del tesoro, comunque l'isola che non c'è, anche se poi ovviamente ci sono dei link come l'ultima canzone di Edoardo Vennato che è diventato famoso per questo, quindi almeno il suo album più famoso, comunque le sue canzoni tra le più famose partivano da lì. Però sinceramente non c'è stata una premeditazione in questo. Sicuramente si voleva mantenere una linea legata al mare, legata al corsaro, legata un po' a questi squali, quindi il film inizia al mare, finisce al mare, c'è un link con l'acqua, mi sento di dire, marina e diciamo della piscina che comunque connette tutto il film, ma non c'è un vero pensiero legato alla letteratura, qualche lettura che ho fatto che può avermi in qualche modo stimolato in questo preciso senso. Allora, a proposito di ispirazioni, quali sono state? Quali sono state le tue fonti di ispirazioni? Cosa ti ha influenzato magari su un piano invece cinematografico o invece su un piano anche figurativo? Sì, beh sicuramente quando ho letto la storia che parlava di amicizie, parlava di questa connessione tra questi due ragazzi, uno dei primi pensieri, io figlio degli anni Ottanta è stato Stand By Me, che ho rivisto, è uno dei pochi film che ho rivisto, perché a volte poi mi è successo di fare delle ricerche fotografiche per luce, inquadrature, mood e di non andarmi poi a rivedere quei film, perché non volevo neanche essere troppo influenzato o rischiare poi anche inconsciamente di emulare o copiare qualche aspetto degli altri film. Penso a Free Willy, penso allo squalo di Spielberg che non ho rivisto, quindi la mia memoria mi porta a 15 anni fa quando l'ho visto la prima volta, ma non ho voluto in qualche modo dare un link visivo o comunque narrativo a certe parti di altri film. Mentre Stand By Me l'ho rivisto anche perché è uno dei miei film preferiti e quell'atmosfera, quelle amicizie anche un po' spensierate, estive, mi hanno sicuramente dato una carezza che poi ho riportato anche nel film. Un altro film che ho riguardato apposta, perché mi ricordavo che mi aveva colpito molto, anche se la tematica è diversa, è Tom Boy della Sciamma, perché ha un protagonista di età simile a quella di Walter, forse leggermente più piccolo, ma come diciamo percepito è lo stesso, perché Walter sembra, Tiziano sembra più piccolo della sua età e c'è questa ricerca identitaria, in quel caso sessuale, in questo caso è più legata appunto alla figura paterna, al proprio posto nel mondo, al senso del giusto e dello sbagliato o del bene e del male. Quindi ecco, le tematiche non sono esattamente sovrapponibili, però il personaggio, questa solitudine, in quel caso era questo ragazzino che andava a vivere, si trasferiva con i genitori e si ritrovava per la prima volta da solo. Ecco, quella dinamica che ho anche un po' in qualche modo vissuto anch'io quando avevo 11 anni, trasferendomi da una parte all'altra di Milano, che adesso non avrebbe alcun, non porterebbe con sé nessuna problematica, ai tempi dove non c'erano social, non c'erano cellulari, cambiare zona, voleva dire perdergli amici. Quindi mi ero ritrovato anch'io in una dimensione un po' malinconica o di solitudine. E quindi ecco, l'ultimo film che ti cito è Honey Boy di Alma Rell, che è un film invece che ha un protagonista che è simile anche fisicamente in un certo senso a Walter, ha la stessa età e ha un conflitto molto forte paterno. Poi in realtà la storia è la storia vera di Shea Leboeuf, che ha avuto dei grossi traumi legati alla figura paterna, credo che fosse un alcolista, suo padre. Quindi ecco, questi film sicuramente un po' per tematico, un po' per sapore, oppure per appunto un po' di emozioni che in qualche modo condividono con l'Udenti da squalo, sono stati sicuramente di ispirazione e fa sempre bene vedere delle cose comunque, anche rivedere delle cose a distanza di tempo per riassaporarne un po' le emozioni che ti trasmette. Ecco, quindi sì, questi tre film direi. A proposito di alcune delle tematiche che hai appena sollevato, appunto che hai illustrato molto bene, che attraversano il film, ci sono appunto queste figure genitoriali o comunque figure di riferimento, perché non sono tutti genitori, ci sono i genitori di Walter nel film, ma c'è anche questa figura che aleggia appunto di questo corsaro, che sono interpretate da attori come Virginia Raffaele, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Queste figure di guide, mentori, hanno in qualche modo una moralità un po' potremmo dire dubbia, che si muove al confine tra luce ed ombra, scolpita proprio dai chiaroscuri. Quanto le scelte casting fatte per il film, e qui includo anche i due giovanissimi protagonisti, hanno contribuito a dare a questi personaggi una tridimensionalità specifica? Cazzo, le domande... No, no, mi fa piacere, devo essere reattivo. No, diciamo che Virginia non ha proprio tutte queste ombre nel suo passato, nel suo personaggio, diciamo che è in una zona d'ombra perché non riesce bene a elaborare neanche lei questo lutto, no? E oltre a dover pensare a sé, deve pensare a un figlio. Quindi diciamo che un po' il conflitto del personaggio o il dilemma di cosa fare non passa da criminalità, non passa da altri aspetti diciamo più bui o più cupi, ma da una dimensione drammatica che sta vivendo, che deve in qualche modo cercare di superare. Mentre per quanto riguarda Claudio Santamaria e Edoardo Pesce, che sono i due soci diciamo criminali nel film, beh la scelta è nata da... cioè Claudio Santamaria mi è stato proposto inizialmente da Gabriele perché serviva anche a attaccare probabilmente o comunque arricchire questo film con due attori di spessore che avendo diciamo poche pose a testa hanno avuto tre pose Edoardo, tre pose Claudio, forse due pose Claudio. Era bello e anche pensabile come... cioè era bello avere degli attori di un certo calibro. La prima proposta di Gabriele è stata quella di Claudio perché lo conosce bene, sono amici di infanzia, hanno fatto tanti film insieme, quindi diciamo che quando mi è stato proposto ho accettato di buon grado perché stimo Claudio come attore e perché pensavo fosse proprio giusto come papà anche. Invece su Edoardo ci abbiamo pensato molto perché non perché non mi piacesse, era la mia prima scelta onestamente, ma perché si voleva un po' capire anche rispetto a Christian che aveva gli stessi attori, un po' le disponibilità perché ci stavano girando esattamente Christian due nello stesso periodo e un po' per anche così, un po' per originalità mi sento di dire, no? Infatti esempio il ruolo della mamma, prima di arrivare a Virginia avevo pensato a Silvia D'Amico che è una mia carissima amica, però per ovvi motivi non era possibile poi averli tutti e tre, no? Poi è avanzata la candidatura di Virginia che ho trovato subito perfetto, cioè subito no, all'inizio ero un po' scettico, poi l'ho conosciuta, ho fatto un casting e mi sono trovato benissimo a livello umano inizialmente, poi anche lavorativo, poi ho visto anche il suo spettacolo Samusà che mi ha invitato una settimana dopo il casting e da lì ho capito le varie possibilità, le sfumature che potevo dare a Rita partendo da un bacino di possibilità enorme, perché veramente Virginia sa fare tutto ed ha un animo davvero sensibile, quindi sapevo che si poteva arrivare a collaborare bene, quindi ecco, su Virginia la scelta sta fatta per lei, perché appunto mi stimolava l'idea di lavorare con lei, di anche trovare una madre che fosse un po' diversa rispetto alle tipiche madri di alcuni film, hanno già fatto quei ruoli mille volte, no? Perché poi quando uno dice madre romana 38enne pensa a quei 3-4 nomi che non facciamo per non essere poco eleganti, però ci siamo capiti. Invece su Virginia il ruolo drammatico questa operazione non l'aveva ancora fatta nessuno, cioè l'avevano provato perché Virginia viene contattata spesso, mi ha detto, per dei ruoli anche drammatici, però o trova qualcosa nella storia che la gancia oppure aspetta, no? Perché come per me un esordio, era un po' un esordio anche per lei e andava scelto bene. Quindi poi confermata Virginia abbiamo detto, ok, per il terzo diciamo protagonista io ero super convinto di pesce, non mi ricordo adesso a distanza di un anno quali fossero appunto forse Cristian era un po' il dubbio, poi però appunto essendo Edoardo un bravissimo attore, avendo l'età simile a Claudio e soprattutto avendo anche una compatibilità rispetto al personaggio che poi abbiamo un po' riscritto, inizialmente non mi ricordo come si chiamasse, non era il corsaro, però quella volta che abbiamo preso Edoardo l'abbiamo visto com'era perché non potevo cambiare di Lucca, né a lui né a Claudio Santamaria perché poi avevano ad agire ancora Cristian. Abbiamo optato per questa direzione un po' mascalzona, un po' piratesca che funzionava anche all'interno di questa villa che abbiamo trovato, che inizialmente non avevamo, però una volta che abbiamo trovato la torre, abbiamo visto un po' l'atmosfera che c'era, abbiamo optato per quella direzione, sì. Per i due ragazzini invece, perché scusami, mi sto rifacendo la domanda che mi hai fatto, ma i due ragazzini, io avevo una chiara idea che il protagonista dovesse essere, che dovesse essere entrambi non attori, io non volevo delle figure formate perché mi è successo sia di lavorarci sia di fare dei casting anche per il film con dei ragazzi che hanno già fatto magari qualche serie Disney piuttosto che hanno quella consapevolezza attoriale e quando li metti davanti alla macchina nella presa non ci credi mai, perché sono preimpostati da gli altri registi, dalle altre storie, ci tengono troppo, si preparano troppo e quindi sapevo che volevo due esordienti. Stefano l'abbiamo trovato non subito, ma dopo qualche casting l'abbiamo individuato perché era anche un personaggio meno tridimensionale nella storia, in scrittura, perché non ha una grande evoluzione. Certo, si smaschera a un, come dire, a una redenzione perché comunque da cattivello diventa l'eroe che mi ha ricordato, non si può dire qual è, ma l'ultima sua scena mi ha ricordato, cioè quando l'ho girata gli ho detto di guardarsi la scena di Independence Day, non so se sei presente quando c'è l'ubriacone che con l'aereo va a salvare il mondo. Sono tornato figli di puttana agli alieni. Ecco, quindi, però ecco, non aveva tutte queste sfumature, doveva essere un po' arrogantello, doveva presentarsi anche visivamente come uno un po' spocchioso, però poi quando è venuto al casting ha cominciato a raccontarci le barzellette, quindi da lì ho capito che aveva sì anche questo animo un po' duro, un po'... Poi lui in realtà è un ex obeso e quindi questa maschera che ha messo in questi anni, anche questi muscoli, fa kickboxing, box, che infatti poi insegna anche nel film a Walter, sono poi in realtà derivati da un dolore, anche il suo, una protezione verso il mondo esterno. E quindi, insomma, ho pensato che fosse sia la sensibilità, sia l'ironia, sia l'aspetto fisico la persona più adatta. Mentre su Walter eravamo veramente in alto mare perché doveva avere tantissime caratteristiche questo ragazzino, non un attore, un po' più piccolino della sua età, però con un'intelligenza emotiva abbastanza importante per poi reggere sia un film ma anche certi sentimenti che in questo film vengono discussi e trattati, certe conversazioni delicate con gli adulti, cioè doveva avere quella sensibilità lì, doveva essere, doveva bucare lo schermo perché è un protagonista, insomma non so un po' che doveva saper nuotare, andare in bici, cioè fronteggiare gli adulti perché poi lui è il più piccolino in tutto nel film, sia di dimensioni sia di età, perché tutto il gruppo di Tecno poi hanno 16-17 anni, quindi mi serviva un puro sangue e 600 persone non l'avevano trovato. E poi, come raccontavo anche ieri in conferenza stampa, camminando per Ostia l'ho incontrato e da subito ho capito che era la persona giusta. Mi ricordo che ho chiamato, ho chiamato chi? Forse ho chiamato Jacopo Saraceni, insomma uno dei produttori e gli ho detto l'ho trovato, perché c'era una preoccupazione nell'aria sul fatto di non avere il protagonista e se non è il protagonista di un film dove ci sono 100 scene in cui lui è presente e non giri. E quindi poi sai, quando non giri c'è sempre la possibilità che il film non solo venga posticipato, ma venga anche cancellato, perché poi ci sono delle dinamiche economiche produttive che vanno al di là dell'interesse mio o dei produttori. Ci sono dei, appunto c'era Amazon, Di Mezzo, Rai, quindi finanziamenti, Regione Lazio, poi non le conosco queste dinamiche, però quando si dicono potremmo spostare, potremmo anche cancellare e sarebbe stato un disastro per tutti, anche perché poi la produzione aveva cominciato a lavorare, eravamo già partiti con la preparazione, perché abbiamo fatto sei settimane, io l'ho incontrato, sì appena ho iniziato la preparazione l'ho incontrato lui, però sai iniziare la preparazione, i costumi, c'è tutto, era anche in funzione sua, quindi sì è stata una fortuna e anche un bell'azzardo devo dire, perché comunque un ragazzino così giovane, messo davanti a un film così importante, non a caso il primo giorno, dopo il primo giorno ha preso 40 di febbre lui, siamo stati fermi una settimana per un produttivo, assicurazione, perché non era Covid fortunatamente, perché sennò non rimborsavano, però nell'aria, non in me, però nei produttori giustamente c'era la preoccupazione di dire, ma ce la farà? Perché dopo un giorno 40 di febbre ne ha altri 39 da fare, e sono tanti soldi di mezzo, e non c'era il backup, non è che ce n'è un altro, cioè se poi lui fra due settimane si blocca, sono soldi, e io ho detto, mi hanno chiesto se me la sentissi ancora, no, o se magari avevo ripensato alla mia scelta, e io gli ho risposto che è come l'amore, non c'è un motivo per cui poi uno sa che quella cosa funziona, ma lo sente, e quindi io sentivo che era la persona giusta, infatti dalla seconda settimana ha fatto 39 giorni senza sbagliare. Fortunatamente, perché sennò non saremmo qua adesso. Giustamente, e a tal proposito, visto che il punto di vista di Walter è fondamentale, il personaggio appunto interpretato da Tiziano, come ricordavi, è fondamentale perché è il focus dell'intero film, e tanto sia a livello di scelta delle location, perché raccontavi come la torre appunto diventa in qualche modo un luogo della psiche proprio dove Walter affronta le sue paure, anche la colonna sonora è filtrata da questo punto di vista, te lo chiedo perché la colonna sonora è firmata a quattro mani da Michele Braga e dallo stesso Gabriele Mainetti che è produttore di Identità Squalo. Sì, guarda, la colonna sonora, poi devo ancora riparlarne con Michele che è sicuramente un bravo compositore, con Gabriele hanno fatto Fricks Out, che mi è piaciuta molto come colonna sonora, però era una colonna sonora orchestrale, no? Cioè aveva quel tipo di, così, anche di lavorazione più classica mi sento di dire, no? Su questo film abbiamo avuto un po' di difficoltà inizialmente, perché io non avevo chiarissime le strumentazioni o alcuni passaggi della musica che la storia richiedeva, no? Poi in alcuni casi abbiamo usato anche un po' di musica in più rispetto a quella che io idealmente avrei utilizzato, perché qualche scena non funzionava. Onestamente c'erano delle scene che senza musica rischiavano di diventare un po' un po' così complicate, no? All'interno di tutto il film e quindi la musica avrebbe invece dato più carattere, no? Ad alcune alcuni passaggi. E poi perché non avevamo ancora capito che strada intraprendere e quindi il primo mese, mese e mezzo di rapporto con Michele è stato faticoso, sia da parte mia sia da parte sua, perché non riuscivamo a trovare la strada giusta. Poi appunto loro hanno un loro rapporto per cui io non componevo con loro, loro facevano le loro chiacchierate, poi diciamo che era Michele che portava avanti le lavorazioni, no? La parte creativa veniva condivisa, ma poi, diciamo, il lavoro quello più sul campo lo faceva Michele perché fa quello, no? Mentre Gabriele Intuquesto stava anche girando un altro film che ne ha prodotti tre, cioè ne ha prodotti altri due dopo lo squalo, quindi non era molto disponibile e abbiamo fatto fatica. Poi a un certo punto abbiamo capito un po' che direzioni prendere, che strumentazioni prendere. Michele è molto bravo col pianoforte, ad esempio, che io all'inizio non ero convinto a usare perché lo trovavo una scelta un po' banale. In realtà col senno di poi gli ho chiesto di aggiungerne ancora di più perché nelle parti più emotive, anche se magari così, razionalmente può essere una scelta un po' facile, quella di utilizzare il pianoforte, però funziona. E quindi a volte bisogna anche un po' riconoscere che non bisogna sempre per forza di cose essere originali, astrusi o particolari. Se una cosa funziona, funziona. È come cliché. Se esistono è perché esistono quelle ragioni, no? Di esistere. Quindi a volte è giusto che sia così. Quindi a volte poi intrapreso questo, abbiamo trovato, ecco, io ero sicuro su questo, devo dire, è stato uno dei motivi di scambio iniziali, anche di confronto dove non ci si trovava. Io ero convinto che funzionassero i fiati e avevo questa cosa del trombone. In realtà il trombone poi non l'abbiamo usato, abbiamo usato un corno e il corno ha aggiunto al tutto un'originalità e anche una profondità che gli altri strumenti che avevamo provato fino a quel momento non mi davano, non mi restituivano. Poi la musica è una cosa molto soggettiva. Cioè rispetto a una bella fotografia o a una bella faccia, che bene o male tutti possiamo trovarci d'accordo, la musica è una cosa che è molto personale. E quindi anche una bella canzone o un bel pezzo, oggettivamente strutturato bene, suonato bene, eccetera, può non piacerti, no? Perché hai dei gusti diversi. E quindi era difficile perché lui componeva e io sentivo e ancora mi mancava qualcosa. E poi in tutto questo anch'io alla mia prima esperienza ho dovuto in qualche modo darmi il giusto tempo per assorbire e capire il film. Per cui anche delle cose che magari mi erano state proposte inizialmente che avevo detto, tipo il pianoforte, no? Una volta poi masticato un po' il film, lasciato un po' decantare, lavorato un po' meglio il montaggio perché abbiamo finito a metà settembre, però poi abbiamo raffinato molto. Ecco, dicevo, col tempo poi il rapporto con Michele è migliorato molto, abbiamo trovato la direzione giusta, mi sono riaperto anche io a delle vecchie proposte sue. Lui si è avvicinato di più magari a dei gusti miei perché appunto di suo magari avrebbe fatto delle scelte diverse. E sono rimasto molto colpito perché in effetti nelle piccole proiezioni che abbiamo fatto con gli attori, l'avranno visto, non so, un 50 persone, in molti, senza che io dicessi nulla, mi hanno detto cavoli bella la musica. Che è una cosa che forse anche per tutto questo pathos o lavorazione che abbiamo avuto io e Michele e Gabriele non avevo veramente guardato con lucidità, no? Cioè perché l'abbiamo finita proprio all'ultimissimo prima di chiudere il film, no? Allora, quanto la tua formazione nella pubblicità e all'estero ha influenzato la tua estetica, le tue scelte registiche e soprattutto, secondo te, Denti da Squalo appartiene a un nuovo sottogenere del cinema italiano? Visto che tanti nomi sono ricorrenti, sia di attori che di produttori e maestranze, fa parte anche Denti da Squalo di questo nutrito gruppo? Parto dalla prima domanda. Beh, sicuramente la pubblicità mi ha dato un sacco di strumenti per sperimentare nuove lenti, nuove persone, viaggiare tanto, ho girato tanto all'estero e ho vissuto a Londra per tanto tempo, prima a New York, non per estoreofilia giusto così, ma perché mi sono trovato a fare delle scelte di vita in altri paesi. Questa cosa ha sicuramente aiutato. anche il guardare a Ostia o comunque il litorale dove non ero mai stato, una lingua nuova come il romano, non avevo mai fatto recitare in italiano, poteva essere un rischio, però sicuramente Gabriele ha intravisto una persona che venendo da fuori, avendo dei riferimenti culturali anche di vita diversi, avrebbe dato uno sguardo più fresco, comunque diverso rispetto a un regista nostrano che magari quella cosa la vive sempre, visto la sintesi. Non mi sento di essere in compagnia di nessuno o di portare avanti nessun nuovo movimento, sinceramente sono ben consapevole anche dei miei limiti ancora e di dove voglio crescere. Non ho mai visto questo film neanche adesso che magari arrivano i primi complimenti o le recensioni positive. Ho sempre visto questo come un punto di partenza più che un punto d'arrivo. Sento veramente che ne parlavo l'altro giorno con un amico, è come se adesso per la prima volta incominciasse a fare regista. Cioè ho fatto dieci anni di gavetta, comunque ho lavorato, mi sono comprato una casa, ho fatto quello che dovevo fare. Però è come se adesso per la prima volta sentissimi di avere gli strumenti per iniziare un nuovo percorso. Quindi è come se questo fosse la prima cosa che giro. Infatti la guardo con affetto, con amore, con gioia, ma anche con tante critiche. Cioè tornando indietro farai tante scelte diverse. Però è anche il bello del gioco, no? Uno cresce facendo e va bene così, insomma. Però ecco, no, non mi sento in compagnia di nessuno, non mi sento di far compagnia a nessuno, ma non perché non voglio stare in quel gruppo. Perché credo che ognuno poi sia un po' unico per quello che fa e come pensa, no? Quanto è potente la metafora dello squalo che non ha a che fare con Spielberg, ma è uno squalo vecchio che non fa più paura? Quanto è potente? Beh, credo molto. Io dalla prima lettura della sceneggiatura una delle prime cose che avevo messo sul tavolo a Gabriele era la volontà di cercare in qualche modo di lasciare aperta questa figura dello squalo a libera interpretazione dello spettatore. Mi piacerebbe adesso che il film esce, che le persone che escono dal cinema, magari ripensando a questo squalo, no? O al modo in cui è stato raccontato, trovassero una loro visione, una loro metafora all'interno. Cioè, chi lo vedrebbe, chi lo vedrà come il padre, chi lo vedrà come un fantasma, magari chi lo vedrà come la criminalità, chi lo vedrà come un semplice squalo. E quindi, ecco, lasciare aperto questo tipo di percezione, metafora, credo che renda il tutto ancora più potente, perché poi, secondo me, quando uno si guarda dentro e trova delle risposte diverse rispetto al tuo amico, alla tua compagna, e se ne parla, solo quell'azione lì, quel confronto, quel dialogo è positivo per il film e per quello che poi ha scaturito in noi. La cosa peggiore è uscire dal cinema e dire, andiamo a farci una birra e non pensarci più, no? Mi succede tante volte, è la sensore più brutta del mondo, mentre magari anche dei film che ti fanno male perché sono devastanti, quindi ti porti a casa la tristezza, è un sentimento. Quindi, ecco, mi piacerebbe che si creasse questo tipo di discussione, no? Perché poi, in realtà, io non ho un punto di vista chiaro, preciso e netto su quello che lo squalo rappresenta, perché anch'io ho cercato di lasciarlo un po' aperto, sempre e poi per raccontare Walter, perché poi è uno strumento lo squalo, non è, capito, non è il personaggio principale. Però, ecco, lascio agli spettatori questa interpretazione, però sicuramente è potente come aspetto, sia dal punto di vista di comunicazione, ma tanto dal punto di vista anche visivo, perché il lavoro fatto da Blackstone e da Maurizio Corridori, che sono occupati rispettivamente di post-produzione e animatronic, chapeau, perché era la cosa che ci preoccupava di più tutti, perché non l'aveva mai fatta nessuno e se sbagli lo squalo, un film con lo squalo, butti via il film. Questa è la verità. E quindi c'erano tensioni anche in certi momenti della produzione, perché abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto con l'animatronic, perché sai, la CGI, massimo, come dire, spendi di più e lo metti a posto dopo. L'animatronic, però non potevamo fare tutto il CGI, perché non c'era il budget per far tutto. E quindi, ecco, è stato sicuramente una sfida importante. Poi in acqua, tutto più complicato. Beh, una sfida direi andata a segno, perché comunque ognuno di noi vedrà nello squalo un qualcosa, proietterà le proprie paure, i propri dubbi in questa presenza, chiamiamola così, questa presenza acquatica, in questa favola di mare. Grazie mille, grazie mille, Davide.